Buonasera a tutti e a tutti e bentornate e bentornati su New News. Inizierò la puntata di oggi con l'aggiornarvi sul Consiglio Studentesco e Senato Accademico. L'unidì infatti si è svolto il Consiglio Studentesco dove sono state approvate all'unanimità quattro mozioni da noi presentate. Una prima mozione è stata indirizzata a tutti i direttori dei dipartimenti e a tutti i presidenti del Consiglio di Area Didattica chiedendo che venisse inviata e inoltrata a tutti i docenti e tutte le docenti dell'università. In questa mozione abbiamo chiesto ancora una volta che vengano registrate le lezioni, che vengano caricate sulla piattaforma Moodle o Teams materiale di studio interattivo come slide, appunti, video per esercitazioni e così via, che vengano comunicate, comunicato un registro con degli argomenti dattati a lezione. Tutto questo per garantire l'essenziale diritto allo studio, alle studentesse, agli studenti che per vari motivi non possono seguire le lezioni negli orari prestabiliti. Ad esempio, questi motivi ancora una volta ricordiamo che sono una scarsa o assenza di rete, una condivisione della rete con genitori che lavorano in smart working oppure con inquilini o fratelli o sorelle che devono seguire anche loro la didattica a distanza, una impossibilità di un luogo di studio adeguato perché se studenti lavoratori o studentesse lavoratrice o perché se studentesse madre o studenti padre e così via. Il rettore si è dimostrato disponibile a tale richiesta anche se la decisione finale spetta appunto i docenti. Poi una seconda mozione è stata indirizzata al rettore e al senato accademico e riguarda la richiesta dell'assistenza sanitaria per i fuorisede. Abbiamo chiesto infatti un intervento all'Ateneo che può essere un'interlocuzione con le ASL, un convenzionamento con i medici di base o può avvenire facendo affidamento al servizio medico competente dell'Ateneo. Questo intervento appunto per tutelare inoltre abbiamo anche riportato altre realtà universitarie che si muovono in questa direzione e abbiamo ribadito come sia importante che anche l'universale che studia in L'Aquila possa erogare questo servizio. Oggi che c'è comunque una crisi sanitaria, una pandemia in corso è ancora più importante. Una terza mozione è stata inviata al rettore, a tutto il senato accademico e a tutto il CAD di psicologia che riguarda la richiesta di apertura e le matricolazioni della magistrale di psicologia applicata a cliniche della salute sulla base della illegittima applicazione della legge 264 del 99. Anche questa mozione è stata discussa in senato accademico però purtroppo non è stata accolta positivamente anche se il rettore si è dimostrato disponibile ad ascoltare le studenti e i seghi studenti interessati. Infine un'ultima mozione sta indirezzata al direttore e al direttore generale e riguarda la richiesta di provvedimenti simili a delle sim date mensili per un anno disponibili per tutte le studentesse e tutti gli studenti con un'inizia di sotto dei 30.000 euro. Questo perché ancora una volta ci sono appunto i problemi di collegamento che si sono verificati durante il primo lockdown e che ancora ad oggi si verificano che possono in qualche modo intaccare o ostacolare la fruizione della didattica. Ancora una volta le cause sono diverse e sono simili a quelle già presentate prima. Il rettore ci ha riferito che ci sarà un ragionamento col direttore generale in tal senso per cercare di trovare una soluzione. Questo è un po' un aggiornamento di quello che è stato il consiglio studentesco e di quello che è stato anche il senato accademico, cioè nel senso le loro risposte e le discussioni e le nostre emozioni al senato accademico. Un'ultima informazione che ho da darvi è che l'Univac aveva inizialmente comunicato per la scadenza dell'Ise una data antecedente a quella discussa nel Consiglio di Amministrazione, ovvero il 20 dicembre. Abbiamo fatto presente questo e dopo uno scambio di mail è tutto tornato appunto alla normalità. Dunque sarà possibile produrre l'Ise universitario fino al 20 dicembre. e questo appunto permette all'Ateneo il calcolo corretto del contributo COA. Inoltre è importante che l'Ise non presenti l'informità e che ci sia l'attestazione che indichi che sia valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario. Per qualsiasi problema comunque non esitate a contattarci. Da Uninews è tutto, buona serata.